Ma lo sai che è uscito lo shop di Alie Glacier in edizione limitata? Felpe, maglie, cuscini, tazze, poster sono ora disponibili fino al 6 gennaio Sì, poi basta, o adesso o mai più È tutto scontato rispetto al prezzo consigliato e se ordini adesso ti arriverà la merce prima di Natale C'è ancora una felpetta super speciale che sarà venuta solamente in questa edizione del merch Fatti un bel regalo e ricevi più mazzate dai tuoi amici, ti assicuro che è figo Non vi ferma niente, letteralmente Vi avevo chiesto 8000 like per Unigle alle 5 di notte e ne abbiamo raggiunti 10400 Quindi oggi sono stanco morto ma siamo alle 5 di notte 5 e 06, ve lo proverò tra un po' Ad andare su Unigle e a incontrare Cazzo, perché sapete, quello è il nostro destino Tra l'altro in questo episodio aggiungerò anche un twist Farò partire a volte con il mio dispositivo Apple professionale, questo Una magata ragazzi, ben ritrovati dal Pofferbiccio che me l'ho fatto a nove Magari faccio prendere in farta qualcuno Non posso farlo come nel video in cui facevo partire gli audio perché lì allora poi non posso parlare Cioè è un casino boia, quindi lo farò dal telefono, quindi professionalità Signori io sto ombrello di sonno, vi ricordo un bel like signori, un bel like o una bella iscrizione al canale Se non siete iscritti perché qua signori portiamo contenuti di qualità Cazzo come potete vedere E soprattutto l'unico giorno in cui potrei dormire tanto, ossia il sabato, oggi è un sabato sera Sono sveglio alle 5.07 per stare qua Cazzo Se non mettete un bel like mi sfondo di botte da solo Fatemi sapere nei commenti se questa trilogia di video all'1 alle 3 alle 5 vi è piaciuta Poi magari ci sbucca un episodio bonus alle 7 di mattina Sapete Omigol di mattina, anzi se arriviamo a 8.000 like di nuovo vi porto anche Omigol alle 7 di mattina Così almeno abbiamo fatto tutto, poi dopo le 7 è normalità dai Poi c'è tantissime idee su Omigol pronte quindi sappiate che i video di Omigol aumenteranno Quindi mi raccomando signori iscrivetevi al canale E si può partire a vedere alle 5 cosa ci offre Omigol Staremo sempre a nostra mezz'oretta da stanchi morti perché io andrò a dormire alle 6 Va bene possiamo partire e vedere chi cazzo c'ha alle 5 Ci sarà solamente gente che proviene da serate perché questi video li posso registrare solo il venerdì o il sabato Quindi scopriamolo ragazzi Si vola signori ho anche messo nel monitor la mia animazione epica alle Clash Direi che si possa iniziare cazzo Anche sulle 5 di notte devo dire un po' carico lo sono Non ci sto capendo un cazzo però sono vivo lo giuro Vediamo chi troviamo Ecco il primo brother Lesgoski Come stai? Tutto bene? No, porco Si può bestemmiare? Ovvio che si può bestemmiare E l'avevo su Twitch Sto registrando un video Vuoi bestemmiare Dio in video? No Potresti Ci tenevo Vabbè Niente Ottimo Attenzione E io ve l'avevo detto ragazzi Io ve l'avevo detto Ciao Ovvio Sì sì raga Prima che inizi una conversazione Figuratevi con c'è che si gratta le palle Oh tu non ti gratti le palle No Oh grazie Adesso sto registrando Poi lo pubblichi? Caspita Se lo registro vorrà dire che lo pubblico Vuoi dire qualcosa di bravo? Eh mi dovevo sistemare la barba I capelli Non so Ma non preoccuparti Che cazzo te ne frega L'importante è Non c'è niente di importante Ed essere belli dentro Ecco Tu sei bello dentro? Sì Credo di sì E allora perfetto Eh saluto tutti i miei fans I tuoi fans Va bene Andate a seguirlo Si chiama Ciccio che mi ha 89 Ma lui paga le tasse Io pago le tasse Eh Minchia le 5 Questo qua l'avevo incontrato prima Perché prima ho fatto Meagle con un mio amico Così giusto per vedere Che gente ci fosse Tipo alle 3 Oh bellissimo Sembrava il mio coppio di classe lui Ma lui Minchia lui Un bel ciccio Porca 3 No 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 Al prossimo un bel ciccio gamer Ci sta Un po' di infartire L'aggetto voglio farli prendere Non è che dai Dormiranno tutti Dopo un pochino Hello Hello Mi dice che stai usando Una simulated webcam Pensate che è strano Hello Hello Ecco proprio Ho mai detto Che cosa ti ha spinto A fare questo Su Vigoro alle 5 Forse il non avere sonno C'hai altre immagini Da farmi scorrere Sono molto curioso Piano 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 Di dove sei? Sono di Genova Genova Sei uno youtuber Sono uno youtuber Cosa te lo fa pensare? Dai capelli I capelli sono da youtuber Quello è un trofeo di Clash Royale Non l'avrei apprezzato ugualmente Io c'avevo 6300 coppie Poi basta Non si sa più dove cazzo sia finito Però E cosa fai nei video? Boh Quello che mi capita Letteralmente Io mi sveglio e dico Ho voglia di fare quel contenuto E voilà Vorrei un'altra immagine però Cioè Oh Ok grazie Un'altra immagine? Piano piano Io sono frettoloso Voglio vedere cosa offri Ah benissimo Posso concludere così Anche io BOMB Schippato Magari vi faccio un secondo episodio Come quello che ho fatto Oh ciao Stavo parando con il popolo di youtube Eh ti stavo cercando Mi sta In che senso mi stavi cercando? Ecco sul tema Mi ha mai scritto Che andavi a fare video Sul telegram degli abbonati L'ho scritto Tu sei il sub Tu sei un grande Cioè tu sei arrivato Tu che ti hai detto Andiamo a cercarlo Madonna Io ti amo Come ti chiami? Gabriele Ho fatto un applauso a Gabriele Che è andato a vedere dal telegram Che registravo migo L'ha dato al suo amico Le vi ha pure trovato In quello pubblico Madonna Ciao youtube Buon continuo di serata Che non esisterà Vai a dormire Per favore Eh sì infatti Bravo bravo Perché ho detto agli abbonati di twitch Che io registravo così Perché io agli abbonati di twitch Dico tutto Un escondimento di abbonamento Su twitch E io ho un canale di twitch E vi ricordo Andate a seguirmi Cazzo Compraimela So è gratis Si continua la ricerca Magari non di fan di reglash Per far partire ciccio gamer Tipo lui Che è sempre quello di prima Magari poi proviamo anche A mettere dei tag Magari mettere dei tag Tipo Italia Aiuta a trovare cose Ciao Voi siete belli Voi siete Cazzo mi parlate Mi parlate In camicia Sì sì Com'è andata la serata Bene Bene Che avete fatto Sono andato in giro per Roma Io sono andato in giro per Genova Però a Genova non c'è un cazzo da fare Spero che a Roma ci sia qualcosa Quanta gente c'è che mi parla Non ho mai avuto così tante conversazioni sul migolo Cioè alle 5 di notte raga Sono tutti tonici Sono tutti cazzo tonici Che cazzo si mette ciccio gamer Basta segarti tu Ma se cos' cazzo ti seghi Su ciccio gamer Acuna manca dalla galla Bella reazione Mi è piaciuta Aspetta Fee fee feee 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 Ma cos'è Fee feee 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 Che vuoi dire firmato Non sto capendo un cazzo Bel dito però Grazie Prego Perdo Quanto vuoi Ma tanto che cazzo c'ho sulla maglia Sbo Davvero Molte risate Da tuaOC Oh beh Quella era mel'uomo eh Quella era davvero mel'uomo Non d'ora pure Guarda bene Minchia brother Buonasera Dove sei? Dove sono? Sono di Genova sono Si sente? Si sente? Cioè i genovesi hanno un accento Hanno? 06 04 Eh 04 sono 06 Ah strano Poi voglio provare Perché non c'ho zè con cazzo Orologio c'ha 16 anni Quanti? 16 16 Ma in due? Non ha funzionato Centro ne ha No 15 Più piccola L'altra ne ha 15 anche lei Siamo 08 Tutte Come avete passato la serata? Cazzeggiando Però non su Meagol Perché è autolesionismo No Cioè tipo da Da che ora? Da Luna? Da Luna che siete su Meagol? Da Luna? Sì da Luna Ma voi dove siete? A Bergamo A Bergamo cosa c'è? No c'è l'acquario Non c'è l'acquario C'è l'acquario sì 20 euro E per vedere dei pesci Dubalene che stanno lì Gente Gente con cui parla Va benissimo Va benissimo E con te non ci parlo Sono l'uomo più forte del mondo Adesso mi dici il motivo Sollevo tanto Perché? Sollevo tanto Quanti chili? 100 chili con il braccio Qual è la tua meta? Alle 5 Perché? Cacchiero con la gente E io sto decisando un video per YouTube Esatto Bisogna allenarsi per essere gli uomini più forti al mondo Esattamente Per sollevare 101 chili Poi 102 E poi cazzo Salire sempre di più Non sono tutti i stai caglioli quelli Sempre tu Sempre tu Ti sei fatto più bello adesso A te Alla c'è lì Grazie Ballati di cazzo Cuscino? Scusami Non volevo offenderti Ah Ah ma che parla Ma te pare Non ciò canse nessuno M Che strano Ma davvero Ma che strano Ma che strano Sono appena tornata da una serata molto movimentata Ok Benissimo Movimentata perché? Perché sono andata ad ascoltare un cantante famoso in una disco dance E dei ragazzi non sapevano che io avessi la sorpresilla In che locale eri? Non te lo posso dire Eh no perché probabilmente sono uno di quei ragazzi che ci ha cascato oggi Me lo ricordo perfettamente Dove sei? All'incirca più o meno Io no no Eri tu Eri tu Eri tu Eri tu Sono andata in bagno e ci sapeva il cazzo Eri tu No io ero nel mio tavolo privé Nel mio tavolo privé Che cazzo mostravi la sorpresa lì? Come cazzo funziona il mondo? Allora non ero io Non c'ero Io non c'ero in questa situazione Non fa effetto Non fa effetto Oh minchia Tu sei un grande Tu sei un grande Minchia Adesso facciamo la gara Chi cazzo si Userò l'astuccio dei miei contro te come occhiare Ma incredibile perché mi sento pure Quindi è tutto vero Ah no C'era un piccolo crampo al collo Che cazzo è successo? L'opera mi tira il tiro del piede Dio cazzo Vabbè resistito abbastanza Com'è possibile al piede Rifermo Che cosa è successo al tuo piede? No è perché c'ho letto di qua Tutto bene? Oh fai stream? Video Ah mi sta a riprendere? Sì Faccio a belli Voi se volete Mi fate un pochino Secondo me gradiscono Ma spompatemi Se volessi dare un messaggio per convincere la gente a spomparti Cosa diresti? Oh vabbè lì Tengo i soldi Tengo la casa Tengo il pesce Venite Hai tutti i requisiti Però non ci sono ubriachi Non ci sono ubriachi raga Oh Ciao Ciao Sono uno streamer Sono un youtuber Come ti chiami? Mi chiamo Alessio Aleglasher Davide un po' come mi pare Anche Francesco Oh no aspetta un attimo Aspetta un attimo Che ti cerca no? Chiamami Francesco Francesco Mi piace molto Ora mi cambiano Mi infraclash Questo mio amico dice di conoscerti E mi fa piacere Dai non è così improbabile Foto Che cazzo mi foto? Uno screenshot era tanto difficile Ok prego 5 euro adesso Io ho preso 3 più ragazzi No no 3 e mezzo Adesso lo faccio vedere Io Ah Ho preso un 4 e mi va bene Beccati questi bellissimi voti di tutto 7 di telecomunicazioni 9 di informatica 3 e mezzo Voi siete sul letto Vedete fingere di essere spaventati Così vi metto il tipo in copertina del video Ok Ok Fincetevi di essere spaventatissimi Alguna magata ragazzi Ben ritrovati dal vostro 10 che me l'ho fatta 9 Benissimo grazie Adesso c'ho la copertina Ho preso il copertino Voi avete cliccato questo video Grazie a loro due Oh Come va? Hai un lampadario che davvero funzionassero tutte le luci Sarebbe anche bello Ancora Ancora Vedo Adesso sono 4 ore e mezza che siete qua 15 minuti in più Adesso è versione Versione fumatore Sto vedendo tante versioni di te Prima o poi vedrò anche quella morta Prima sono entrato nel ciclo dei direti Dove trovo sempre gli stessi Ecco ve l'ho detto Adesso provo a mettere un tag Italia Ora provo a mettere il tag Italia Voglio vedere che cazzo cambia Così a caso Magari ci facciamo anche un intero episodio Sul tag Italia Facciamo un intero episodio su Italia Nessuno ne schippa Orca troia Come va? Poi lo so Italiano Ah italiano Italiano un cazzo Io non posso parlare ma loro no Loro no E vabbè ci capiremo solo nei due Ok nel tag Italia ci sono stranieri a quanto pare Non mi trova nessuno tra l'altro Cioè mancherebbe altri You both like Italia Però non c'è nessuno dall'altra parte Bellissimo Ecco Ma che cazzo Raga oggi molti più peni, pettorali, seghe Del solito Si stanno impegnando Tag Italia non nasconde niente Oh nasconde piastrelle Sono le 5 Che cazzo fa? 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 Che cazzo fa?